Parliamo ancora di musica ma anche di danza e recitazione, due ore di spettacolo piacevole per bimbi e adulti. La storia di Joseph è andata in scena al Comunale di Atri e sarà replicata nei prossimi giorni all'auditorium della Finanza dell'Aquila. Umberto Bracilli. Come si dice in questi casi, buona la prima della compagnia Il Nodo che ha messo in scena nel bellissimo teatro comunale di Atri, Joseph è la strabiliante tunica dei sogni in Technicolor, opera teatrale composta da Andrew Lloyd Webber, ispiata al raccolto biblico di Giuseppe e i suoi fratelli dal libro della Genesi. È una delle storie più conosciute e affascinanti che racconta il percorso di Giuseppe tradito dai fratelli e tratto in Egitto in schiavitù. Lo stesso poi, grazie al dono della veggenza, salverà l'Egitto dalla carestia. Uno spettacolo per tutte le età che si avvale della competenza di 24 artisti poliedrici che cantano, danzano e recitano dal vivo, accompagnati da un'orchestra di nove elementi. Degli occhi, una lacrima in giù, mai libera in giù.